segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te mi fa veramente fatica vengo da scuola e a scuola abbiamo parlato maschio ecco appunto per dire come per rispondere a a borgonovo no che diceva c'è un uomo che sei a scuola no si vengo da scuola le superiori siamo un po meno insomma chiaramente tutto il lavoro educazione femminile dai nidi alimentare quasi tutto educazione quasi tutto femminile poi man mano che si va avanti diciamo tra licei università e poi fino a arrivare gli ordinari lì invece un lavoro maschile faccio molta fatica perché appunto sono addirittura anche oggi appunto una maggioranza maschile preferirei insomma lasciare la parola ad altre persone adesso quindi devo prenderla e quindi ho accettato anche di stare qui e di lo faccio diciamo un po come insegnante e è un po appunto facendo la parte che forse l'unica parte che possiamo avere in questo momento e cioè provare a imparare da quello che almeno a me io se avessi avuto una la semplicemente la mia educazione familiare nonostante ho avuto appunto delle persone molto affettuose che mi hanno voluto molto bene potevo essere anche un femminicida nel senso non è che l'educazione familista paternalista autoritaria maschilista sessista che esiste in italia come dire è solo in certi contesti è un contesto del patriarcato è un contesto che viene trasmesso dalla società dalla famiglia dalla scuola eccetera eccetera anche perché la parte di queste due famiglie appunto come lei ricorda la storia di queste due famiglie protagoniste di questa terribile vicenda non possiamo dire che fossero delle famiglie che vivessero ai margini della società quindi questa cosa questa cosa come dire prescinde da contesti da famiglie eccetera eccetera allora quello che la parte che possiamo fare noi ma noi vuol dire io benedetta david lorenzo francesco e chiamo in questo caso per nome le persone e partire da noi e dire siamo stati possessivi qualche volta nelle relazioni siamo stati violenti abbiamo visto delle persone che sono state violente e abbiamo reagito in qualche modo ma non discutendo generale di come pensiamo cioè io cristian raio nelle mie relazioni sono o degli atteggiamenti possessivi oggi ho fatto queste domande in classe ma nelle domande che ho fatto in classe ho detto ci sono anch'io qui perché non possiamo pensare si fuori tirarsi fuori questa è una cosa che ci ha insegnato il femminismo io qui c'ho due libri che sono tutto sull'amore di belux e la volontà di cambiare sono libri molto semplici che possono essere per esempio letti in classe e quest'anno abbiamo detto ho deciso proprio perché era avvenuto un episodio insomma molto spiacevole nella scuola nostra proprio di un ragazzo che rivendicava una sua possessività c'è stato un insomma e quindi ho pensato parliamo dell'amore quest'anno facciamo leggere belux tutto sull'amore facciamo leggere il simposio proviamo ad avere una prospettiva femminista una prospettiva appunto da storia della filosofia ma ma io da maschio bianco cisgender eccetera eccetera da adulto così faccio un passo indietro in questo momento e l'unica domanda che mi posso fare è la domanda che ci facciamo tutti cioè che ne dite voi maschi di questa roba qui di 105 femminicidi partiamo da noi interroghiamoci ogni giorno è una domanda che faccio a te è una domanda se è stato violento qualche volta nelle relazioni sei stato possessivo francesco sei stato violento se hai subito violenza o hai subito sei stata in qualche modo a vittima di una violenza una possessività nelle relazioni hai visto persone vicino a te che avevano atteggiamenti del genere come reagisce che cosa c'entra col patriarcato tutto questo perché non so dove ci possiamo formare rispetto a questa cosa scusami francesco perdonami però quando parliamo di qualcosa io è la cosa che dico miei studenti chiaramente ognuno può avere un'opinione diversa poi ci sono dei concetti che hanno la loro storicità se noi dobbiamo definire se noi dobbiamo definire che cos'è il patriarcato chiaramente ci sono degli studi più autorevoli ci sono degli storici ci sono delle appunto qualcosa che abbiamo definito altrimenti se noi diciamo che è tutto patriarcato niente patriarcato dobbiamo definire questi concetti